Ieri c'è stato un cambio drastico, siamo presi da 35 a 15 gradi da me. Ma da me ha fatto la più girellina oggi, ha rinfrescato, ah top. Adesso fuori ci saranno 19 gradi, se sta da dire. Da noi 21. Sì, anche qua abbiamo 19-20, ma comunque è benissimo. Ma è 19 al momento. Però ieri era più di 30. Però visto che comunque al sud e nelle isole mettono caldo ancora, eh. Sì, sì, sì. Adesso la nord ha rinfrescato. In questo caso sono considerato il nord. Dicono che torna a risalire il caldo dall'Africa. Non lo so. Allora, ho deciso che non ti intero più. Praticamente è come giurare di non bestemmiare più. No, no, giuro, giuro che non ti intero più. Io sì, soprattutto nei tuoi confronti, Matteo. Se hai un modo per farti sfogare, per gli amici questo è altro. Ce l'hai il TikTok, Cesa? Raga, ma il TikTok del Berlusca, l'avete visto? Lo che gli dice al politico... Quale? Ha fatto il TikTok Berlusconi oggi. Ah, che ha aperto il profilo. Sì, ha aperto il profilo. Eh, vuole arrivare anche le minorenne adesso. Mi sono. Arco, due, ragazzi. Mamma mia, ho infermabile. La calappia fighe. C'è la moglie, mica, che potrebbe essere tipo sua nipote. Chiamalo scemo. Chiamalo scema, lei. Si è messo col trentesimo uomo più ricco del mondo. È il trentesimo uomo più ricco del mondo, Berlusconi. Ho i miei dubbi, sai. No, 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 io sapevo che qualche anno fa... Eh, secondo me è fuori dai cinquanta anche, anche dai cento. Sarà tra i primi cento. Considera che quando l'ho letto io non c'era ancora tipo Elon Musk, questi così. Eeeh, ciao! Adesso sì, sicuramente sarà... Allora è bello indietro. Non ti preoccupare, è fuori dai cento, secondo me. Secondo me è fuori dai cento. Attenzione, forse sono tornati gli sticker per porsi. 100, 100, 200, quello che può fare. Siamo sei miliardi, eh? No, no. Ma pure essere il numero... Il numero... No, ma il numero quattromilionesimo al mondo, come cazzo si dice? Che è? Parliamone. Ma io ci sono stato troppo basso. Adesso gli altri. Nota la sedia. Eh, non si lascia. Ma c'è il microfono lontano. Potremmo parlare troppo cesa che... È in difficoltà, cioè... Sta cercando di sprecare il meno ossigeno possibile cesa in questo momento. C'è nessuno appena... Guarda il pozzo, come fa. Avrò con i giù. Che cosiddetto di mia madre? Subito M4, Beppe! Non c'è nessuno. Subito MP. Oi vita, oi vita mia. Oh, poi mi devo un po' sta... Ho fatto del fogo automatico sulle armi quando le raccolte. Eh, ancora non hai fatto. C'è, capito che tipo... Ma è bello che... Ma avete visto quei pazzi di super people, raga? Che? Lo s'hanno fatto. Questa... Il gioco torna disponibile fra un mese? Eh, lo so. Eh, ma perché dovrebbe uscire a breve, eh? Era in beta, era una beta prima dell'uscita. Sì, ho capito, ma la beta, cioè, se lo vuoi fare... Beh, ce n'è il senso. Sì, mi sembra giusto. Eh, no, ragazzi, non fa una piega il mio ragionamento. No, ma comunque ci sta, dai, come gioco. No, ho giocato in team così, non è male. Adesso bisogna vedere perché... Anche perché dopo comunque si può, esatto, farà anche, cioè... Noi incontravamo solo bot. Eh. No, dai. Ma solo, solo bot, no? No, solo bot, no, ma... Un po' di due giorni di beta, ce n'erano tanti. Ma è gente non imparata, Jill. Ah, scureggiato, raga, scusatemi. Stavo a concentrare. Qua c'è un m4, quello che... No, non cagare. Raga, ma non avete capito il primo allenamento? C'è anche l'esterno. Ho fatto il primo allenamento, arriviamo lì. Eh, racconta un po' come è andata. Cioè, sarà tutto tranquillo, meno male, ho detto, no. Porco due, ragazzi. Porco due. Calcio a sette. La metà squadra è la mia famiglia, perché siamo io, tre miei cugini. Cioè, detto, tutto tranquillo, no? Allenatore è il mio cugino. Allenatore è il mio cugino. Non hai capito, non hai capito. Siamo arrivati lì e fa... Dai, ragazzi, allora, adesso ci riscaldiamo sulla pista. Porco due. Cioè, raga, io preferisco... Fammi fare 100 giri di campo che è un giro della pista. Cioè, è infinito. Non finisce mai, ragazzi. Sono 400 metri. Ma ti sembra di correre una vita e mezzo. Quando partiamo e fa, dai, a posto, facciamo un po' di riscaldamento. Abbiamo fatto il primo giro di corsetta con un po' di movimenti, gambe e così. Poi, a un certo punto, mentre finiamo il primo giro, parte il mio cugino che era davanti. A posto, dai. Skip alto. Skip alto. Poi scatto. Ho detto, porco due. Oh, senza preavviso, senza niente. Scatto. Poi si ferma. Skip basso. Skip basso. Scatto. Calciata all'indietro. Calciata è. Scatto. Porco due. Arriviamo lì. Io ero morto, regà. Morto. Mi faceva male la schiena a correre. Infatti poi mi sono messo a correre sull'erba, sul campo, perché non gliela facevo con la schiena. A un certo punto, stretching. Dai, a posto. Ha detto, boh, ma ci mettiamo lì due passaggi, classico possesso, robe così, no? Adesso, 15 minuti da adesso. Fartelec. Un minuto di corsa e 30 di scatto. Ho guardato il mio cugino e gli faccio. Ma dove cazzo mi hai portato? Gli faccio. Porco due. Stavo male. Io e il boa eravamo. Cristo Dio. Cristo Dio. Dovevi vedere il boa accesa. Il boa, poverino. Boverino. Ma a parte che col fartela che è stato anche davanti a me, ma io non ce la facevo, regà. A me facevano troppo male. Me facevano troppo male la schiena. La fascia lombare e tutto. Stavo un fiamme, porco due. Finito l'allenamento e rapportò il boa. Bordò, te lo giuro. Però abbiamo vinto il torrello. C'è, personalità, ragazzi. Non è roba da tutti i giorni, eh. Io sono pronto per combattere. Stra pronto, vi dirò. Ho tutto fullato. Car con silenziatore. M4 con compensatore. Quasi. Beh, dov'è? Esatto, grazie. Macchine, faccio un buggy. Trucia, grazie per la condivisione. Ciao, sei fra... Io ho un per quattro. Oh, fratello, grazie per la condivisione. Amo. Jill che non l'ha ancora imparato a cambiare posto. Qua troveremo la macchina, me lo sento. Ah, non l'avevo vista. C'è stata una sterzata improvvisa e soprattutto non voluta da parte del furgone. Ma ormai passiamo di qua e prendiamo la strada. Ho deciso. Molto bello. Il giorno di qua si faccia una live per i... Grazie, prego, per favore, scusa. Oh, no, vabbè. Io questa cosa non l'accetto di perdere vita per questa roba qua. Guarda, Cesar è l'unico che non si cura. Si sta lasciando andare anche nel gioco, ragazzi. Ha deciso di tirar gli ultimi anche nel gioco. Ogni tanto, Cree, tu è matto e tu che sei dietro. Mettigli un attimo il dito sotto il naso, vedi se respira, se butta fuori aria. Non si sa mai, eh. Io ho sconosciuto educazione. Io sono educato con tutti, tranne che con Porsi, ragazzi, perché ho dei limiti e ho anche delle... Non mi ricordo come si dice, ma avete capito. No, delle... Dei paletti, come cazzo si dice. Dove c'è la gente, dov'è la gente? Quella palla questa mappa? È stato un piacere, ragazzi. No, dai. No, dai. Vecchi che ne dupemi! Ti stai dando un palla di inverno per quella motivo Un palla Noi ci capottiamo però Ah mamma mia, anche adesso Ecco, perché l'opalla ha preso? L'unico in 20 metri Cioè... Che cos'era? Matt si è completamente spezzato la spina dorsale insieme a me Ma proprio... Che cos'era? E non si è fatto niente Volevo vedere se c'era qualcuno ma non c'è nessuno Aspetta, prenda un po' Per farlo si fa Allora, per favore Porsia, lascia stare cesa che non sta bene eh? Sta... Sta esalando gli ultimi attimi probabilmente Ho fatto tutto il caso L'ho capito L'ho capito Oh raga, fatemi un favore Porsia, lo dico soprattutto a te che sei tipo... Cos'è sta moto piazzata qua così? Eh? Eh? Ah questa è quella da... Sì da uomo Eh, lo sapevo io Lo sapevo io Dove sono? Ma sono qua in open davanti, oh! È vero? Sì Io non li vedo Ma dove? Beh, mi ha cascato addosso la moto, ma dove ti rendi conto? Colpito uno Colpito un altro A terra uno Vedo l'altro Vado a pushare L'altro sta là dietro, occhio eh? Sì, 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 sì Uno è evitato... due eccetti Uno a terra Mamma mia Push, push, push Andiamo, andiamo Perdi mezzo Aspetta Cortissime le sto tirando Ma che fa salire? Mamma mia Lo sapevo Morti tutti Dovevo guidare io Ma perché? Perché? Perché in discesa si capotta? Eh perché hai preso il salto un pelo di taglio Hai preso il salto un pelo di taglio? Ho un taglio di velo Ho un taglio pelo di salto A te la scelta C'è una granata lì? C'è una granata lì? Bababia Cheat cheat Bababia 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 Oh, questo era pieno di antidolorifici Non ne servono a me Cazzo di tuoi, ormai ce li ho io Bababia No, eh sì Bravo, Ceso, vedo che si sta integrando nel gruppo No, a parte di scherzi E uno solo Eh, se te li lascio, te li lascio un secondo Bababia Bababia Mezzo niente? No, eh, tutti e cinque no, cazzo Dai, partisci da me Non nemmeno più Cazzo Uhhh Ah, lo ripresi Sto scappando dalla zona rossa E io me la faccio Sono schizzato Da dove vi sparano? Davanti a me da Graveyard Vabbè, sono lontanze, ragazzi Beh, sono lontanze, ragazzi Eh, dai, risposto Prendo la macchina, giù Scura di tanto Dove vare a te Ai 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 Ma vaffanculo, è sul tetto della chiesa, ragazzi Vai, vai, c'è là è sul tetto della chiesa dietro alla costruzione quadrata lì vai su vai su vai su eh lo so ma adesso se andavo su lì ci giravamo come ha fatto a farmi headshot con un co... ah beh non avevo molta vita no non avevo vita adesso che ci penso va indietro c'è la smoke dietro no no sto safe quando non verrà mai ma dov'è dalla torre si si dove ho pingato il ping giallo proprio eccola sta girando dietro i muretti della torre e se pushiamo cattivi? non lo so Rick è stato una volta in testa è ancora lì dietro? si è ancora là sopra nooo cazzo nooo come l'ho lisciato è ancora sopra il pico giallo eh palle c'è da sparare anche tu ma io non lo vedo capito io gli sparo giusto per mettergli paura è sport? esatto adesso gli tiro una stun giusto per mettergli ancora un po' più paura cazzo si sposto ogni volta che devo sparare ma è lì dentro? si è sopra si è tra il tetto e... oh mi ha smolottato non lo vedo più forse è sceso no è sempre là una granata era bravo è sceso senti correre? no no è morto è morto è morto è morto eh ragazzi cioè quando quando prendo in mano le mie granatine qua ci sono cazzi che tengono eh le mie patatine chi ha detto che io avevo fatto headshot? io hai mentito no io ho visto headshot poi non so basta sapere che hai mentito ho mentito sapendo di mentire figliati ARCO 2 oh questo c'ha un medico l'hai visto giovannino? il mio patatine cucinino cos'era? non lo so era un'evoluzione di cesa sembrava che fu un maialino è il prossimo è il prossimo nooo è il prossimo step di cesa è la sofferenza di cesa io i medici ci sono dove è la mia moto? dove ho lasciato la moto raga? qua qua c'è anche la macchina eh no ma non è la mia moto dov'è la mia super moto? no bastardo la macchina è la mia moto raga è la macchina è la mia moto raga è la 1 quella gil lasciala giù lasciala giù lasciala giù è mia è mia è mia è mia è mia è mia andiamo via insieme con la macchina ma c'ho qua una montan biche si ma dove vai? dove vai? fuori dalla zona rossa morco 2 vieni 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 sperate che ho fatto faccio un check anale a questo posto qua vediamo se c'è dentro qualcuno sembrerebbe vuoterrimo aia al posto tutto nella norma e non è successo niente avendo al posto di tavolo lei è arrivata questo è un'altra mappa eh sì vera bene noh ma mi faccio finito la pentina ho messo la video continuo si rifarano un'intera fermato uno è sopra uno dei due boccioni colpito da dietro pure stanno sparando si si ma la sleanes sarà piena di gente ragazzi dove ci mette la benzina oppa si ah è gil porca due gil eh ce l'ho ma come ci prende la tanica in mano devi salire sul veicolo e cliccare sulla tanica te lo dice il gioco te lo dice quando metti benzina no ma in tutto questo ci sei ancora là in fondo adesso mi basta piedi ho trovato la tanica ma non me la fa mettere in teoria devi salire sul veicolo e fare usa sulla tanica no se devi mettere dietro dove sta il tappo da benzina ragazzi io sono salito sul rob sul pick up e scomparsa la tanica ok molto bene ma uno che va a prenderlo con la moto no ce l'hai la benzina adesso si ce l'ho eh a posto eh ma non me la metti ma non ci siamo capiti equipaggio a tanica diavolo porco ti andrà dietro dove sta il coso dove sta il tappo della benzina ascolta fai una cosa datti fuoco cesà è più semplice datti fuoco devi sparare nella tanica ragazzi io sono andando avanti comunque questa macchina è l'unica macchina senza il tappo della benzina dove sta il coso è è elettrica come assist ah ok la tua kill si infatti adesso è là eh sta pila oh me l'ha fatta prendere così la verso per terra è finita c'è una goccia una tanica 5 litri una goccia porca puttana ma tu hai sgranato? no sta sgranando via 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 di nuovo no c4 si esce da questo posto di merda evacuare da me c l'ha buttato il c4 c'è una goccia cos'è? come è stata? ci ha un altro ci ha un altro c'è un altro c'è un altro non ho capito c'è un altro finito uno c'è ancora gente è possibile non so mo ti lo c'è qua nooo matteee eh non hai dettito? eh no io stavo sgranando no dai ma il pompa è una roba assurda il pompa è una roba assurda fa schifo fa schifo ma è accesa? eh sto arrivando io sono a pietre siamo tutti morti allora dai fai con questi cecchini qua su vediamo chi la vince questo gioco è l'unico dei pochi giochi che è quasi impossibile fare full team ma col pompa si col pompa è un attimo se state fuori troppo è troppo un colpo eh ero full a me non hai misto quasi full uguale un colpo ma tutte e due pure a Ren a Ren l'aveva appeso sul pollicione e l'aveva shottato io pensavo l'avessi sentito salì no io sì ho provato a sparare eh ma dimmelo cazzo pensavo l'avessi sentito poi hai sentito che ho sparato io fermati fermati due secondi proprio sparagli è lì davanti da qualche parte cercalo a sinistra più a sinistra non lo vedo sopra io te l'hai scato di solito ma con cosa sta sparando amiche con i mini ciccioli allora o muori o muori queste sono le soluzioni ce l'hai una granata? c'ho solo una stordenta e una fumogela ma non stava sparando dai tanto voi siete morti qua ci sono quei quattro camper fermi dentro l'edificio che appena mi vedono uno è morto fuori poi dov'era questo? c'è è salito da sotto dove cazzo stava? io ho fatto uno sopra e uno è arrivato da sopra ancora arrivo oh eccolo qualcuno mi ha sparato è da là davanti a te dall'edificio where is where is where is ci provo non lo vedo eh non lo vedevo otto colpi vi ammazzate uno fermo non lo vedevo va bene così va bene così ti vediamo bene comunque non è molto con gli occhi aperti oggi però non lo vedevo com'è fatto a far 41 di danno una kill cesa ma guarda chi è senza parole headshot da un vallo di distanza però headshot da un vallo di distanza allora un tempo era 137 qualcosa questo era più lontano ne sono sicuro adesso è da vedere no era un po' più vicino ancora c'è quella 137 però mentre eravo lassù con gil ho sparato uno che correva è andato giù è andato giù giù i wanna let go un po' di teino dimmi te se uno a settembre si deve bere il tè caldo io bello dimmi te a me eeeh c'è grazie i wanna let go La 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 Sette Ziii Ziii Ah, porzia, stavo dicendo Visto che sei Ah, è meglio, devi ricordare, francese Visto che sei tipo mia mamma Stavo dicendo da, tipo, 20 minuti fa Sta cosa qua, mi ricordate domani che c'ho il tatuaggio Porco due, non mi devo dimenticare Alle tre, c'ho il tatuaggio, devo finirlo Alle tre, domani Mi dimentico io L'ultima volta erano Erano le due e cinquanta, stavo in live E mi fanno, mi scrive il mio tatuatore Dove sei? Arrivo Stessa di sicurezza Ficca tarane il culo Mi sembra giusto Aio Aio Anche io sono andato vicino Con i proiettili, aio E olio Ho parto premunito Vuoi ripeterlo un'altra volta, Matte? Così magari vede qualcuno E olio E olio Qua c'è un MOP senza colpi Ma a te? Qual è? Ti serve un compensatore R? No Ok, a posto Qualcuno serve un compensatore R? A me serve un'altra volta E non ce l'ho Mi dispiace Fa culo verso di merda Era scritto Sì A posto che ha detto di no Oh calmo, calmo Che sembravi un cavallo Non ce l'ho A me serve un assalto C'ho solo un mini Raga, voglio un M4 Porco due Ma come mai è così difficile Trova gli M4 Ma figa Ma prima te li regalavano Davvero? Lo sapevo Uomo di merda Chi ne fa l'aspetti A qualcuno serve un'impugnatura verticale? Vabbè Non ce l'ho Allora, va a cacare No, 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 giuro Ce l'ho Ah, guarda un po' Che ho trovato Con compensatore R Davvero? Sì Niente, la mia vita È tutta una menzogna Comunque, ragazzi Sì Baba G Ho trovato un bel compensatore A R Sì Ma niente Cioè, alla fine Ho fatto tanto il simbatico L'ho preso nel culo io Va bene, a posto Bravo Cioè Io, vabbè Ma abbiamo controllato C'era la gente che ci deve Io sono in giro con un mini Con super 4 Me ne frego un cazzo Fino a quando non trovo l'M4 Non raccolgo nessuna arma Sì Sì Come razza Plac lo spam Ti silenzio Va benissimo lo spam Forse Fino a quando non ci sono Discorsi seri M4 Amico Sì 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 Sto lasciando per 3 Impugnatura verticale Proprio qua Sì Non c'era nessuna Veramente strana Sì Sì Mi pingo il per 8 Sì Anche un per 6 Sì Sì Te l'ho appena pingata Ed è molto lunga Sì Sì Più veloce della luce Come superman Stiamo perdendo Lo stiamo perdendo Dove è sto cazzo Eccolo qua A c'è pingat guaiu A c'è pingat I wanna leggo Cazzo Vuoi Arrivo a prenderlo Su Su Subito Gil Va Fan Culo Non Te Lo Prendere I vogliotto Guarda che ping Uno che prende quella macchina lì Raga Quella della polizia Che andiamo a cercare la Ginde Borco demonio No 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 Dov'è il coso Gil Non faresti scherzi Al punto blu dai Ma Gil Ma dove cazzo sei andato Raga prendete la macchina Chi è l'arancione Desinca La figlia Ma minchia puttana Raga ma c'era uno camperato qua dentro Ma non ci crederà C'è tutto un team Sto scappando Ma dove cazzo sono uscito No 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 C'è stato No 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 Sono un team tutto incazzato Volevo trafiggerne uno Ma non ce l'ho fatta Trapanarlo o trafiggerlo Trafiggerlo Ecco uno sta pushare Dov'è Era qua a sinistra Pesta della casa Stanno qua dentro Nel edificio Ti gioco E' uscito uno Occhio eh Uno è la sinistra Della casa Io a sinistra li vedo Zero rumori Sì è normale Guarda che sta fanno sentire No Sono fermi immobili Sono fermi immobili Immobili Cosa l'ha fatto anche a me Guarda così Mi scosto Cosa Cioè ma a te Guarda veramente Se non uccidere Non uccide a me Cagate il cazzo Ogni volta Mi ha detto Davanti Dai Già ce l'ho fatto A posta Non so ma infatti Manco ho fatto a posta Io ci Era una battuta Avevi detto Che non tiltavi più oggi Era una prova Per vedere se tiltavi Esatto Allora Ultima bete E mi rivolgo Ovviamente A Gile Cesa Dovete sapere Che noi Puntualmente Siamo 5 contro 3 Perché c'è Matte Che tende ad ammazzarci tutti Povero Matte La cosa Per cui ringrazio Dio E che di solito Sono io a farne A pagarne le conseguenze Questa volta qua E' stato il povero Cesa Che è stato Prontamente Atterrato E seviziato Da Matte Quindi Vorrei Che tutti insieme Adesso in chat Un rip Cesa E un gg Per Matte Traditore Aspetta che c'è La sfida di ballo Fra best Più di bruttara Questa ce l'hai? Eh? Stira tra E' un gg Stira tra E' un gg Stira E' un gg Stira E' un gg Stira E' un gg Condivisione Amore Ecco Dimmelo Di calmarmi Dimmelo Che ti distruggo Figa Grazie Forza Ciao Luca Ciao Luca Grazie per la condivisione Quello mi ha fatto Una mozza Del paguro Bella e buona Comunque Ragazzi Adesso Del paguro Eh? Dai franciero Vitta Lettamente Cioè Proprio Si è visto Che si è arreso A un certo punto Hai capito Che era uno scioppone Di livello superiore Non poteva fare niente Puoi manare forse Forse puoi silenziare 15 minuti Orazio Allora Un team con noi Un team che arriva Proprio con noi Fai retromarci No 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 Ormai Vieni indietro Mi stai da solo Eh Ho capito Che cazzo Ci devo fare Uno scende da me Proprio Merda 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 Scende proprio qua Come fai a sapere Che io sono Nella debole Dov'è? Un'armi Che rani si muore? Che ho fatto Ragazzi Vediamo i nemici Scappiamo Che cazzo Ci devo fare Mersugo Siamo da un'altra parte Porco due Siamo da un'altra parte Siamo da un'altra parte Per aprire Stare Non ho armi Siamo da un'altra parte Non ho armi Mi stai seguendo Mi stai seguendo Mi stai seguendo Aiuto Dov'è? Arriva Mi stai seguendo Mi stai seguendo Allora O li fate tutti O ci morite Lo spara Mi prendo una bevanda Ma no Ma da dove Ma da dove? Eh Erano forti tanto Questi raga Comunque Ma ha sparato un altro Così però Non va bene Ragazzi Eh Però posso dire una cosa Posso fare un applauso A Matte Che non hanno ucciso Nessun compagno di squadra Ah certo Di sicuro Un po' devo uscire a te Che ti è andata All'altra parte Del ping All'altra parte Della città Ma Matte Causa nostra Certo Tu non eri a rischio Guarda Ren Un applauso a Matte Visto che numero Palo Testa Gil Come me lo comunichi Come me lo comunichi Come me lo prendi Sto dest qua Minchia che gancio nel mento Ma non lo conosco Non è che non mi esprimo Personaggi che non lo conosco Però Sai cosa ti dico Mi fido Mi fido Mi fido Voglio un mancino da qua Devi darvi Ormai per me Maldini Moncada Il suo schiavo Come si chiama Mastara Mi ispirano a fiducia È il suo schiavo Io sono senza parole Possono prendermi Pinco pallino Pagato anche Oh c'è un altro Assassin's Creed Dove? Però lui è di colore Razzista No no È quello dei Caraibi Razzista il tuo Alla seconda Razzista alla seconda È vero L'hanno fatto Non si chiama Unity Si chiama Assassin's Creed Unity Era un free to play Assassin's Creed Dove tu eri un nero Ti ho giocato Un apprecchio Dopo prendevi le barche L'hanno fatto prima ancora Che uscisse quello dei pirati E odissi Guarda lei veramente È un razzista No Ma l'altro Su Edmich C'è l'ultimo toprider Gratulio No L'ho desidero Troppo Orchide Allora ci stanno tre team Raga Almeno Quattro forse Andiamo alle case Pink giallo Andiamo alle case Quattro team C'è da divertirsi qua Se noi siamo vincitori Siamo veramente Oh è scesa gente Nelle case dopo le nostre Si Attenzione I primi sintomi Della paura Che fai Te ne privi Porco Due dei giri Nella mia stessa casa Non deciso C'è l'OMP qua da me Puntatori laser e tutto Io non ho il jubbo Io non ho l'elmo Ma adesso mi prendo Come metto Sotto c'è l'elmo all'1 Ah io prendo il pompa Niente scherzavo Tengo M4 Eh no E qua trovo il compensatore Mi raccogliete le ACP Se le trovate Ok Qua davvero ci sono Andiamo a push Alcone nella casa Qua davanti Stanno sopra Oh venite con me Ci sei Cesar E di qua raga Qua no Perché è tutto chiuso Lì da voi Ora che sei nel bagno Allora è dall'altra parte Mi chiuso pure qua Mi sa che è qua dentro Qua 45 ACP Di fuori dal balcone Dai è scappato raga Giù in fondo Ma che si sperano Dai le case Qua c'è Supermarket Cos'è No Stato il mitra Te lo lascio Sono qua davanti E' andato là L'ho visto Ho fatto malissimo a questo Gilles Dove sei E' qua E' qua sta push Grazie per la condivisione Amo Due terra Due terra Vieni da me Vieni da me Non uscire da lì Tra terra Prova a scappare qua dietro E' qua di fuori E' qua di fuori L'ultimo Devi curarti Dei curarti Dei curarti E' qua E' qua Deve tenerla a cover E curarti Gilles Devi sta con noi Però Stavo raccogliendo l'MP Ma che cazzo Cambi le armi Che abbiamo i nemici davanti Gilles Lo sai che li abbiamo No Io ho detto Ma avevano sparato fino adesso Gilles Cazzo Sì ma lì Dove eravamo lì Avete fatto uno No No Sparavano nell'edificio Davanti a noi Quello lì L'abbiamo beccato a caso Gilles Porco Due Adesso starò più zitto Porzi Ok Oh frate Grazie per la condivisione Amo Anche se mi offendi Un po' Dicendo così Sì Sì ha fatto la gillata No Tu hai le tue armi Sei a posto Basta Prendi parte Ma non è vero Gilles Ce l'avevi le armi Per sparare Ascolta Avevo un pompa Volevo cambiarlo Finchia Facevi full team Con il pompa qua Eh se non mi trovo Con il pompa Volevo cambiarlo Ho visto un Mp5 Ho detto Lo prendo Cazzo Ma in quel momento lì Sei andato giù Mi arrendo No 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 vai via Per fortuna ho messo la tua voce al minimo Almeno non ti sento Che brutta perso Ciao raga Ciao 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 C'è non esiste Infatti che saluto di merda che ha fatto Ciao Ciao Buonasera Grazie Grazie E dopo prendi le brutte aptitudini di re No chef Ho detto che ho deciso che non filterò più E fatte due domande forse Depende anche io chef Oh frate mio Grazie per la condivisione A mo Oh pezzo di fango di uno chef Comunque quando ti scrivo sul gruppo Potresti anche rispondere Vai guobo Ma eh Mitch Dimmi Come si chiama il gioco nuovo Come stai giocando l'altro Super people Sì esatto Ormai è inutile scaricarlo Anzi noi che l'abbiamo scaricato prima Abbiamo l'accesso No l'11 Sì noi l'abbiamo l'accesso prima Abbiamo l'accesso Dove l'incendiamo Come le solite due case È molto bello Carino Carino Sì Neon non permetterti Mi più di condividere La mia live Sulla tua pagina Non ti ho dato il permesso Hai capito? Non ti sento Neon sei troppo basso Ma l'abbè è passato tu Sei una persona orribile Vedi adesso ti sento giusto invece Abbiamo un team dietro Hai capito? Abbiamo un team dietro Un team davanti Sì Wow Io non so perché sto facendo testo e pirouette Con il paracadute Però è molto bello È molto bello Qua c'è la mitraglietta nuova Per me c'è un thompson Un Ce ne sono un po' di armi Un po' No sono un po' chiuso Ho un po' di febbre Un po' Un po' sinusisato Sinusiche? Sì Non mi viene più Sinusisa Comunque c'ho la sinusita Comunque C'è sinusisato Mi dispiace C'è sinusisato Raga Accessori Mi serve calcio tattico Compensatore Il resto C'è lo C'è lo C'è lo manca Ok mi serve solo un compensatore Matteo per favore smettila di dire Cagate Dai che non te la ricordi Matteo io non ho 48 anni come te Che cazzo dici? Ho lasciato un barotto qua Che cazzo ridi Neon? Che anche tu sei su quelle tale io ormai eh Ma che cazzo vuoi? Per quattro serve qualcuno? Eh beh Ma chi è che passa a trovare le robe Non le raccoglie Non lo dice i compagni Questa è una cosa da Gil Ecco infatti c'è lì Gil Lo sapevo io Ma in tutto ciò Matteo quanti anni hai perché? Io ho 28 Figa c'è la mia stessa età Per quattro qua Ah di un attimo raga Ti ho lasciato qua al per quattro è acceso Ah ho trovato il perotto Va bene uguale Grazie Io sono quasi a te posto Giusto il secco da buildare con il resto Magari lo stai prendendo al biondo e Perché poi me li chiedi Quindi te le lascio giù Oh ok Sembra giusto Non fa una piega né Oh ma è aperto qua Eh sì È tutto aperto qua Ma io l'ho detto che c'è la gente infatti Faccio un puntatore là G Grande Giù in fondo di là c'è la gente Ma ok Qua sarebbe sarebbe per liberare sempre qua davanti Astinenza Salite in macchina C'è la 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 c'è Eccolo a destra qua dentro qua dentro qua dentro In grosso C'è anche uno qua Vabbè anche in grado Grazie che mi hai incastrato Grazie Ren Il motore Lì dietro le barriere Audio audio Era fermo questo E' incastrato sul motore Vabbè Ah piaciuto il bot No no bot non era bot No forse sì Macchina Erano qua dentro L'edificio dopo ok Cielo grande Cielo grande Cielo grande Prendiamo la macchina andiamo rega che robe strane che fanno le console comunque luigi a proposito come sta andando mitch agli elementi no no ho fatto uno normale ma cos'è amatoriale o categoria no a 7 a 7 siamo fascia c lo scorso dovevano salire sulla b ma non ce l'hanno fatto sono arrivati terzi e perso l'ultima partita di campionato c'è a b c e d t un attaccante un attaccante di sfondamento un attaccante di presa una macchina davanti a noi passata a destra mi prendiamo subito ma non lo capito perché ok bravo visto questo a costi un po' più finita un po' più finita accaduto le gomme le gomme ragà alla fine l'ho ucciso io fatta cattivere poveretto però veramente allora rega ok salga sul veicolo la macchina esplode la macchina uno a destra da me qua uno morto ci spara qualcuno col cecchino con le sks non lo vedo rega non lo vedo non ci credo dov'è dietro l'albero su di me non ci devi finire che coglione questo si è arrestato lo faccio per voi ragazzi qualcuno c'ha delle granate di voi io mi sa che una ce l'avevo qui arriva una macchina guarda la camera sul pienire in due sono preso la macchina per scendere sull'edificio non non brucialo 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 non 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 ma scusatemi non non può essere ah l'ha preso sotto l'ha preso sotto allora adesso vado a prendere l'altro di là si l'ha preso sotto io pensavo fosse un compagno di squadra lo stavo capendo ma infatti anch'io ragazzi ho rimasto un attimo fermo a guardare come per dire mmm non poteva essere solo uno perché è arrivato uno con la macchina che cazzo è dov'è l'altro? eh non è lo spazzalo vola via abbiamo è volato anch'io sparava questo qua sopra sparavano ancora eccolo a destra dobbiamo bene guarda che bello che è una tirata ahah ti amo ma veramente hai un cazzo sei le tiri perfette vado a prendere gli altri di la due secondi eh raga lebron spostati dei lakers entrerà rem potresti diventare socio di minoranza del mille si eh vado dalle brani dico te ma hai visto come tiro le monotope ahahah 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 no è uno qua a sinistra eh si poi 300 mila miliardi da lì a me ahahah non posso crossa qua cross qua sul ponte e gli taglio la strada quanto prendono i calciatori da noi eh ma prendono di più quelli del basket non dipendo non dipendo non dipendo e girano solo nel calcio eh in america il giro non si anche nel basket no no ma anche nel sesbo anche nel pesco anche nel cano però sono in pochi quelli che guadagnano le cifre straesorbitanti capito veramente e sono comparabili a ma cos'era ma cos'era ti sparava dalla guida? ha cambiato il posto c'era un altro ma mi ha sparato tipo con la P18C raga con la pistola in automatico mi sa che con la pistola puoi sparare è automatico dalla guida si comunque il più scarso di NBA ragazzi si prende quanto tipo Mbappé ma smettila cioè raga è andato a guardare è andato a guardare i contratti dell'NBA figa adesso vedo non ce n'è hai pienamente ragione forse però è diverso io ho sentito che comunque i cartellini non sono pagati come no no nell'NBA paghi il contratto al giocatore no? eh aspetta cioè con 0 anni di esperienza quindi appena entrati in NBA lo stipendio minimo è 898 mila dollari raga eh tanti eh dopo un anno di esperienza lo stipendio minimo è un milione e quattro eh però guarda da loro è proprio devi fare una carriera dalle scuole primarie proprio per arrivare in NBA per noi a livello di numeri no basta a livello basta a livello di college basta a livello di college hai quanta gente che vuole sfondare nel basket che c'è esatto cioè loro sono comunque sia la terza la quarta popolazione in più numero al mondo cioè ce ne hanno di persone nelle scuole vedo quello che intendo che se c'è la concorrenza in confronto a noi è una situazione pazzesca vabbè ma anche quando vedi i calciatori in Giuggeppo sono 30 milioni ma sono lordi eh non sono netti eh però comunque sia 30 milioni lordi no no perché lui dici i giocatori NBA i stipendi che vedi sono lordi ma anche in Italia sono lordi eh ci sei tutti cioè dopo ogni nazione c'è la quarta di nazione però se vai a vedere adesso ci sono i tre giocatori meno pagati in NBA quello meno pagato prende 600 mila il secondo 700 è qualcosa il terzo è già un milione porco due ed è il meno pagato cioè che cazzo è? si però lì da 30 anni se non sei un Lebron James nel senso capito uno di quelli che veramente ma frate ma pure che prendi tutto il tempo 600 600 mila dollari e pure che prendi 600 mila dollari tutto il tempo ci campi eh? la voglia ci campo io il mio figlio e il figlio di mio figlio lo stipendi su di Ura ma cuando e mani il telefono ma chiaramente abbiamo tutte le palle che ci stanno e... la palestra e il campo ogni volta che giocamo e... però ci sono ancheuna 2 2-3 team occhio eh sui quelle persone straffagate vabbè io ridendo e scherzando mi sono fatto le mie 7 kill col pompa con lo 012 dall'altro tetto della casa eh già dalla davanti vabbè affanculo bello il pompa da più di 100 metri che cazzo tira la papera ma qualcuno lo sta lessando pensavo era morto sono riuscito a coprirmi mi stava ridando io ancora non ho un'arma in mano io non ho un jumbo e ho chi uscito il tetto a sto punto eh si infatti aspetta aspetta che torno su ah non hai coperto ti hai coperto il tetto dai e non c'è comunque un cazzo qui da me non c'è un jumbo al 2 c'è non è riuscito a prendere il tetto ma ho un po' così paura ce l'ha con Jill tranquillo no no ma ce l'ha con me oh ma una benda un medico niente qua eh è pronti si prende qua ma che è che spara io me l'ha ci sono giocatori che prendono molto di più da noi e lui gioca nei lakers come quasi familiare ma non c'è un gioco qua si l'ho trovato io al 3 ah un barrel al 2 quando a me è agile io lo vado a pushare sta merda è la in giallo oh davanti a me davanti a me davanti a me davanti a me sono morto io sono morto per caduto occhio Matteo la tua sinistra in mezzo alla strada Matteo ce l'hai qua davanti ce l'hai qua davanti uno lì al più giallo sotto l'albero ce n'è uno qua davanti proprio Matteo l'ho visto l'ho visto Matteo un altro in casa anche lì sono tutti lì si si aspetta fammi fare una roba è lì dietro la stella estrella mi avvicina Matteo lo uso per avvicinarmi si 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 t'ha sgranato Matteo si si è quello ce n'è uno sul tetto pure ce n'è uno sul tetto Jill ce n'è uno sul tetto vabbè si auto auto ce n'è uno sul tetto ma no raga stasera c'è si vabbè questi non sono neanche livelli 500 500 49 questo vabbè ma si vede che è il livello 49 questo 161 ma io non dovevo andare non dovevamo andare così sotto raga infatti io stavo andando sotto sono scappato subito indietro perché erano tutti posizionati io mi sono suicidato in pratica il Nottingham Forest sta facendo una bella figura è in premier come hai messo? come il Monza si vabbè il Nottingham Forest è stata la squadra in Europa che ha speso di più figa ha perso 6 a 0 con City vabbè però c'è 4 punti ha fatto 4 punti? si ma la premier è iniziata prima della cosa che cazzo che cazzo di giocatori hanno Gibbs, White Froiler a centro campo è sabato il derby eh volevo andare a vedere non ha trovato il posto chi lo vince? ah no Jesse Lingard che lo tengono in panchina beh certo è scars come la merda bah oddio è scarsissimo amici potetevi d'accordo? no ma non è da ascoltare vedi che è entrato 10 minuti fa ho sperato 48 puttanate ciao Luigi 7 milioni netti ad Arthur vabbè ma queste sono robe da Juve Giugia 7 milioni netti ad Arthur anche Dest 3 milioni e 8 ho sentito al Milan poca puntana infatti ma Dest c'era un bel prospetto è a 21 anni più che altro vale li vale tutti ci vanno bene ne ho basta allora niente non li vale dopo che hai detto così ne ho ragazzi sono troppi 3 milioni e 8 dobbiamo puntare su 2 milioni e 1 dovevano dare il massimo siamo troppo spenti stasera ragazzi sto giocando male cesamore per caduta porco 2 spentissimi ho trovato un poca anche per curarmi è troppo caldo ah ah non scordiamolo è un po' di adesso ho finito l'aria ne ho ho finito l'aria forco diavolo abbiamo un team sicuro ecco vediamo dove sta uniti guardo la casa dopo io visto che mi dice che sparo buonanotte ti voglio bene buonanotte ragazzuoli se non gli dici che gli vuoi bene ti resta dentro in discord se no raga dite che gli volete bene ti voglio bene adesso adesso rimarrei rimarrei a posto stai vedendo porco dio ciao ciao neon ciao ok io non ho un giubbo qua c'è uno scorpion è qualcuno interessato una scorpion? io sono di 9 mm io mi sono di uno zio assolutamente che cosa ho raccolto io? mi piacerebbe trovare un compensatore o un esteso oh giubbo a 3 piole is on fire mi dite ora tipo dovremmo andare a pusciare di cattiveria è una cosa lontana oh questo colcare è qua accanto si è negli edifici qua accanto sto andando io mi ha messo giù one shot uno che resta il boe vai in cover so cover so cover uno che resta io sto restando arrivo vabbè niente vai c'è uno giù ha tirato lo sgranato che so devi farmi passare c'è già ma cristo tutti livello 80 regà citta ho sparato senza mirare sto qua senza mirare ma citta regà livello 80 da ma non si può non si può segnala fanculo sembrava di aver visto qualcosa volante non mi avete neanche confermato la kill livello 80 ma figura ti ha fatto tutti e quattro ma bella l'assistera è partita fatemi fare una cosa perché se no forse una kill riuscirò a farla tutte le volte personalizza piedi togli ok ok arrivo da Aspetta quella piccola No, no, questa deve essere nostra assolutamente Guarda che ha scritto il chef, non è? Ciao, Felice e Chef, non lo leggo, raga Perché? Perché già mi molesti in real life E poi devo pure leggerlo Andiamo in questo capannone grossissimo, bellissimo No, è un palazzone Andiamo qua, piuttosto Qua, 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 qua Palazzoni no, sono quasi tutti chiusi a regola su questa mappa qua E se non vinciamo questa Io ho solo cure Io ho un sistema automatico E' un G36 E' un M16 Se vuoi ti do un M16 WMP5 e si gode Mi serve un'arma Zena 3 Mmm, questa è bella Io non ce la provo lo zeno Guarda me, c'è, credo me c'è il M16 Altro zeno a 3 qua Dove è lo zeno a 3? Perché non ho lo zeno io, raga L'ho fingato Indietro, per me Mi serve un per 3 se lo trovate, raga E' quello anche a me E' quello anche a me Passi audio Vogliamo andare a fare gli stronzi qua? In quanto? 3 botte qua Entro io Bella Madonna La troggia, potremmo Altro Si scioglную C'è mi ha distrutto raga Ok qua ce ne stanno altri di solito infatti Capri io resto Da attraverso il muro Ce n'è uno appena Ok ma state in coma No no c'è 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 No no c'è 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 Chi è che ha chiuso la porta Esce no 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 mi è uscito Uscito è uscito Mamma mia ci ha salvato la vita No regà One shot Non riesco Muore Vai resta resta al volo Sta arrivando gente da fuori Cesar devi coprire No 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 perchè me lo toglie un secondo Matte Ma perchè l'ha tolto Guarda come era Dai che c'ho qua anche il giubo da prendere Che me l'ha distrutto Sto morendo Sto morendo Cesar Arriva Richard Adesso devo coprire Sto morendo No ma non mi ha preso Cioè mi ha aperto il suo Lei sa cosa fare per farmi contento Quando fa l'abbonamento Pagamento Lei sa cosa fare per farmi contento Quando fa l'abbonamento Pagamento Pagamento Sto restando sicuro No 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 No, no 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 Cesa ma c'è la porta aperta Non può stare dentro Sunti in due su Vieni indietro Cesà, vieni indietro Porto uno Resta, 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 resta No, apri, 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 apri Porco, due regazzo Apri la porta, apri la porta, apri la porta Resta A terra No, hanno sgranato Allora, ho tirato la smoke, usciamo tutti con la smoke dopo Sto uscendo, eh No Adesso Non mi ha dato il tempo, ma accetto Non mi è neanche entrato in mira Scandalosi siamo stasera, scandalosi No, accetto, amore Mi stavo shieldando io, l'ho detto Questa situazione dobbiamo aspettare che loro ci entrano Per forza Non puoi Non entrano mai Te due volte che faccio per sgranare Due volte che mi chiudete la porta da vai Io l'ho chiuso perché ho detto Almeno se push Che deve fare il giro Lo vediamo Pensavo dentro di me La prima volta Si, veramente chef Cazzo laser Potenza 500 100 che brutta morte balletto venite a fare il balletto incredibile niente gil sei in ritardo pure in prelobby il solito gli sneai alle case buon lavoro felice grazie per essere passato animalo ma ricordo le solite regali è un team dietro di noi da due persone forse è solo un team sono divisi due sono divisi uno avanti uno da solo davanti si io ho rotto il vetro ne manca solo le m4 mi hai dato praticamente tutti gli accessori dammi sto cazzo di m4 raguardo non trovano anche le armi oh sono pieno di smoke raga se ne qua c'è un casco al 2 se ne può servire dov'è rilascio qua ok 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 io ho un'impugnatura verticale e estesi mitra se vi servono estesi rapidi eh ma quando prendi gli schiaffi così forse ti deprimi poi pensi alle cose brutte accesa perché non mi ha preso il jubble 3 demonio si la lascio giù quando sarai una cosa brutta io è abbastanza ne capitano di migliori diciamo ah beh quello è poco ma sicuro dai niente niente tutto raccoglie tutto tranne quello che mi deve raccogliere ragazzi trovate un m4 me lo chiamate l'ho lasciato io sto lasciando un laser 1x8 io qua non abbiamo rotto noi eh dall'altra parte della strada occhio ancora trovate l'm4 dietro dietro io 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 sì sì non doveva romper cazzo è uscito col drone col drone ma qua dentro? sì a meno che non stesse distrutto a meno che il drone non posso spaccare i vetri si era col drone a rompere i vetri raga dove? dove stavamo noi? apposta mi so si è aperto eh si è aperto eh si è aperto? si è meglio col drone che fa il furbo ma dov'è che li avevate visti scendere voi più o meno? erano spettati due dietro di noi e due avanti a noi almeno io ho visto così grazie stico mi sa che stanno a fermi i mobili si questa impressione vorrei penso qua davanti di sicuro i mobili qua davanti c'è una moto dietro di me ho sentito i vetri si ma cosa facciamo con la moto? uno che sale su commendia va a prendere un altro veicolo giudatevi la vita eh sto arrivando bella Manuel ho che non raccogliere nel sabonetto Matteo buonasera dai andiamo raga arrivo a prendervi che è lontanissima la safe si ho rotto la calco passo a scurbi dico se c'è gente eh si c'è gente a scurbi circa una legate scurbi edifici occhio mi son farmato qua sopra se vogliono fightarli no un bel posto per capotarsi dai eh dai eh GG eh dai però ste cazzo de panchine vi stiamo sparando voi? si dal tetto della casa qua ho svegliato c'è comunque una da destra pure no sono io che sparo adesso rimane una secchina una secchina io bello per un secondo non li vedo io comunque raga comunque sia uno è qua sopra e uno è sotto basso qua più o meno vabbè niente raga stanno camperando arriva la safe andiamo affanculo dai la moto l'ho lasciata la c'è la macchina da prendere raga hanno preso il pallone guarda lì che stanno volando con la l'ho lasciata la macchina da prendere raga dobbiamo andare la macchina dov'è la macchina? l'ho lasciata io sono sceso molto prima di voi però l'ho buttato l'hai buttato la casetta ehi la casetta alla casetta l'ho la prossima se ne vedo ora E' irrenata con il dado Porco tu, è spezzata la spina dorsale in pieno Passata alla sinistra di Bacinchi E' già trovato, c'è il caderno In Brasile, sei in Brasile, come mai sei in Brasile? Oh, che bello Cioè che bello, oddio, dipende dal posto Perché Brasile non è che sia un posto proprio tranquillo Questo non ha messato un colpo Beh Eh, siamo morti Guarda che livello è questo, perché Bacchi davanti a noi, guarda, guarda Bravo che sei, mamma mia quanto sei matto Quanto sei matto Sono livelli 500 Clamorosamente forti Che livello è Gucci sandwich? 500 Eh, allora c'è Sì, scendi, scendi Sono un coglione Sì Che coglione, è il secondo stasera di cittone che becchiamo Faccio una bevanda, ci sono Eh sì, mi deve sparare un altro Ma che ho sbagliato io a mirare, verda Si sono messi giù da solo, Gile, appena esci qua a sinistra A destra, appena esci da qua Destra Ho sbagliato, scusami Ho sbagliato D'accordo, raga No No, l'ultimo No, faccio l'ultimo Ma l'hai segnalato quello lì matte? Ho scattato a entrare in mira io Vado a pisciare E sono abituato a tenerlo premuto Io vado a farmi un drummino Porco due, porco Io bello Vado a farmi un drummino Vado a farmi un drummino Ma che ho un bel po' di merda dentro Quando è arrivato Gianni? Peccato che scrivo con la sinistra e mi seguo con la sinistra Penso un po' te, porse Anche qua sei riuscito a toppare Incredibile Giorni regali 25 abbonamenti E quale sono le due? Astro? Astro, sì Bella Michele Dai, valla, dai Andiamo alla prima qua a destra? Un attimo Sì, va bene Orco due Tutti in questa casa qua, ragazzi Tutti in questa casa qua Andiamo lunghe No, no, no Tutti qua Ok, ok, ok Uno viene dentro Stanno arrivando qua Oh, c'ho il macete C'è un cazzo Qua si è trovato il pompa Sono fottuto Sono fottuto Sono fottuto Sono fottuto Sono trovato tutte le armi Sì, sì Noi siamo nelle stanzi Basta Basta Stasera veramente ragazzi Sarà la quinta partita Che moriamo allo star Sono mai riusciti ad arrivare In endgame Stasera l'ho clavuroso Abbiamo mi accaduto Che due citer Con due C'è dopo un po' Cristo santo Affanculo C'è Entri Uno che mi ricarica Il pompa davanti Mi giro di l'altro Col Thompson in mano Che cazzo vuoi fare? Noi senza armi Mi siamo entrati in tre stanze Senza armi Porco Vabbè Ciao Vi saluto Ci vediamo domani mattina Dopo palestra Alle 11 come sempre Ciao Ciao